Dopo due settimane senza partite ufficiali, sabato l'Albino Lesse tornerà in campo contro il Modena. I cannarini già nella scorsa stagione segnarono una svolta importante per il cammino della Celeste. Prima di quella sfida, infatti, i seriali navigavano in acqua agitate, ma grazie a Sisse, che appena entrato, realizzò il gol del pareggio, e a Perico, che regalò a Madonna oltre ai tre punti anche la permanenza sulla panchina aerobica, il prosieguo fu decisamente in discesa. Sì, sì, è vero. Un gol importante, soprattutto per il mister, ma anche per noi, perché è una situazione di classifica delicata. Sì, è una partita che ricordo con piacere. Ed una situazione di classifica delicata è anche quest'anno, quella che vede l'Albino Lesse a soli 14 punti, a più due dai play-out. Sì, siamo tante squadre nel giro di pochi punti, però calcolando che avremo tre trasferte, mi sembra una partita in casa, da prima o dalla fine dell'anno, è una partita che assume un'importanza fondamentale. Quanta voglia c'è di tornare a disputare gare vere? Sì, sì, no, sicuramente, abbiamo lavorato tanto e niente, adesso abbiamo questa partita per rimetterci in moto e poi ne abbiamo tante in pochi giorni e quindi via con questo filotto.